Ciao a tutti ragazzi, io sono Andy Bellotti, imitatore e trasformista specializzato nell'imitare personaggi femminili e tantissimi personaggi dello spettacolo, veramente, quindi questa estate non esitate a contattare Andy Bellotti, trovatelo sulla pagina Facebook Andrea Bellotti Andy Bellotti su Instagram, mi raccomando contattatemi per serate, eventi di piazza, sui camping e chi ne ha più ne metta, mi raccomando contattate Andrea Bellotti, imitatore e trasformista 346-68-63-906 cellulare, Andrea Bellotti su Facebook, Andy Bellotti su Instagram, mi raccomando perché il divertimento è assicurato! Grazie a tutti!